Uno schianto e poi il buio. Sono trascorsi sei giorni dalla tragedia che si è consumata ad Arcole, in provincia di Verona. Quattro giovani veronesi hanno perso la vita in un incidente stradale, mentre stavano tornando a casa dopo una serata in compagnia. Il loro assassino un 31enne che era alla guida ubriaco, con un tasso alcolico quattro volte superiore al massimo consentito dalla legge. Una strage che non può e non deve passare inosservata. Famiglie e amici chiedono giustizia e lo hanno fatto con una raccolta firme per presentare una petizione con l'obiettivo di istituire il reato di omicidio stradale. 1272 firme consegnate a tre parlamentari veronesi dall'assessore regionale alla sicurezza Massimo Giorgetti. È incredibile che una persona che ha ucciso molte persone non sia in galera. Capiamo anche il suo dramma, ma credo che sia difficile spiegare anche a quei 1.400 ragazzi che si sono radunati in poche ore perché questa persona è ancora a piede libera. Proprio a ridosso della giornata mondiale per il ricordo delle vittime della strada che si celebrerà domenica, a Limena in provincia di Padova questa mattina si è svolta la presentazione dell'iniziativa IES per l'educazione alla sicurezza sulle strade. Il progetto è coinvolto attivamente più di 2.000 giovani fra i 14 e i 17 anni della provincia di Padova. Questo progetto IES mi è piaciuto molto e mi ha fatto riflettere la testimonianza della ragazza che facendo un incidente ha perso l'uso delle gambe a causa di una distrazione e anche quando per esempio mia mamma prende il cellulare anche solo un attimo io gli dico di metterlo giù perché ho capito che basta anche solo una piccola cosa per cambiarti la vita.